Non ce l'ha fatta Giulia Ramelli, la maestra di sci veneziana, travolta da una valanga di neve durante un'escursione con gli sci sopra cortina, assieme agli ingegnere mestrino Piero Pacagnella, che aveva lanciato l'allarme. Le condizioni di Giulia erano apparse subito molto gravi, ricoverata a Treviso e espirata nella notte ad appena 34 anni. A Venezia, dove era nata e cresciuta, la notizia si è diffusa nelle prime ore della mattina, suscitando un profondo cordoglio tra i tanti che l'hanno conosciuta, come il manager Jacopo Luxardi. Noi ci siamo conosciuti al liceo, al Benedetti, che abbiamo frequentato pur in classi diverse, dove abbiamo avuto anche occasione di fare delle gite insieme, quindi abbiamo tanti amici in comune ancora. E' un'amicizia che poi è proseguita anche durante l'università. Sì, è stata veramente un'amica importante per me in quel periodo, infatti tutto il nostro gruppo adesso è molto molto scosso per questa cosa, che ci ha presi veramente di sorpresa. Durante gli anni universitari a Ca' Foscari Giulia aveva conosciuto Monica Sambo, avvocato e consigliere comunale, che ha espresso cordoglio tramite la sua pagina Facebook. Avevo conosciuto Giulia alcuni anni fa, era una ragazza solaria, appassionata dello sci e della montagna, molto amata da amiche e amici, e per questo ho voluto esprimere alla famiglia e a tanti amici e a tante amiche, soprattutto, che aveva il cordoglio e le condoglianze per questa tragica perdita. La passione per lo sci aveva portato Giulia a Cortina d'Ampezzo, in quella che era diventata la sua seconda casa, tra le montagne che conosceva palmo a palmo. Era lei che ci aiutava a organizzare le gita, tutti insieme, le uscite sulla neve, e lei sostanzialmente era proiettata lì, ha sempre avuto questa passione fortissima, che anzi la aiutava anche nello studio con un ottimismo, una carica che la rendeva veramente unica. Quando è stata l'ultima volta che l'hai vista o che ricordo le viene in mente per primo? Proprio oggi, in occasione di questa disgrazia, ho rivisto l'ultimo messaggio che ci eravamo scambiati, che era «Vediamoci presto». Grazie. 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 Grazie.